Cosa ti differenzia dagli altri rapper per te, della tua età? L'ho fatto di mettermi a nudo davanti alle persone, cioè tipo nudo davanti al mondo, cioè tipo... Tutta la gente può vedere le mie cicatrici e io le dico e le mostro e ne vado fiero. E percepisci un velo di finzione nel rap game? Sì, Bruno lo so, penso di sì, però sono più un tipo che io magari mi faccio fatti miei, cioè tipo, ma anche se vedo l'altro tipo che dice che lui spara, ma non spara, sta a casa, che gioca. Lui mi mette la faccia, non io? Sì.